Entriamo in una nuova epoca, il Medioevo, l'epoca che convenzionalmente è compresa tra il 476, anno della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, e il 1492, data della scoperta dell'America. Sempre per convenzione distinguiamo la prima parte del Medioevo, fino all'anno 1000, che chiamiamo Alto Medioevo, dalla seconda, dall'anno 1000 in poi, che invece definiamo come Basso Medioevo. Dico convenzionalmente perché in realtà gli uomini del Medioevo non avevano alcuna consapevolezza di vivere in un'epoca nuova, di certo non si definivano medievali e molti non si accorsero neanche della caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Le trasformazioni più significative del mondo mediterraneo, del resto, avvennero a partire dalla metà del VI secolo. Cambiò il clima, che divenne più freddo, ci fu un'epidemia devastante, la peste Giustiniania, e anche il Mediterraneo, a partire da quest'epoca, perse la sua unitarietà politica con l'emersione di nuove forze. In Occidente, molti regni romano-barbarici abolirono il sistema fiscale di tradizione romana. In sostanza, i re romano-barbarici smisero di riscuotere le tasse e poggiarono il loro potere sul possesso della terra. Senza i soldi derivanti dalle tasse, però, l'Occidente andò incontro a un processo di semplificazione economica. Cioè non c'erano più le risorse, mancavano i soldi, per mantenere le strade o per i grandi cantieri pubblici che avevano caratterizzato l'età antica. Fate attenzione, semplificazione non vuol dire crollo della civiltà. La cultura latino-romana continuava a essere un fondamentale riferimento e anche i commerci non si interruppero, anche se quelli regionali divennero più intensi e più comuni rispetto a quelli a largo raggio che avevano caratterizzato in maniera diffusa l'età antica. A Oriente l'impero continuò a esistere. L'impero romano di Oriente, che gli storici chiamano anche Bizantino, da Bizanzio, l'altro nome con cui era nota Costantinopoli, sopravvisse per tutto il Medioevo. Le tasse continuarono a essere riscosse e permisero di mantenere in vita l'imponente apparato burocratico che gestiva l'impero. Gli imperatori avevano un potere assoluto. Le stoffe preziose, l'oro, la ricchezza senza pari, i fastosi cerimoniali di corte rafforzavano l'immagine di un sovrano che agli occhi dei contemporanei doveva sembrare una sorta di divinità. Ma anche a Bizanzio le cose stavano cambiando. Innanzitutto un ruolo importante era stato assunto dalle imperatrici. Alcune straordinarie imperatrici avevano un potere che era pari, alle volte addirittura superiore a quello degli uomini. Tra queste c'è senz'altro Teodora, la moglie dell'imperatore Giustiniano, che era figurata nei preziosi mosaici della chiesa di San Vitale di Ravenna che vedete nell'immagine. Ma le novità non finiscono qui. Rispetto al passato l'impero era sempre più militarizzato, nel senso che via via la guerra aveva assunto più spazio rispetto ai poteri dei civili. Se ci pensate questo cambiamento è molto simile a quanto stava avvenendo negli stessi anni anche in occidente, nel regno romano barbarici, dove le aristocrazie barbariche, incaricate della difesa delle popolazioni e quindi militarizzate, avevano assunto un ruolo centrale. Inoltre, anche se nei documenti ufficiali dicevano di essere romani, i bizantini ormai non parlavano più latino ma greco.